Sono Monica Cirinna, mi occupo di politica, mi occupo di diritti, mi occupo di agricoltura, sono senatrice della Repubblica per il secondo mandato e sono la mamma della legge sulle unioni civili e forse è questo il motivo per cui sono stata invitata a questo festival. Dico sempre che una legge si ferma sulla gazzetta ufficiale, cammina, cresce e diventa cultura del paese solo attraverso grandi iniziative come questo festival a cui auguro un'infinita fortuna. Sicuramente ricevere un premio importante come il premio Milk è per me motivo di infinita gioia, lo voglio accogliere e dedicare però a tutti i ragazzi che in quest'ultima settimana, uno qui alle porte di Torino e ben due a Roma, hanno subito atti di omofobia e di bullismo. Questo premio serve se diventa testimonianza, quindi io nell'accoglierlo e nel ringraziare continuo la mia opera di testimonianza di ogni tipo di inclusione. Ogni diversità deve diventare un valore e ognuno deve far sì che questi muri vengano abbattuti. Dico a questi ragazzi se la vostra famiglia vi ha rifiutato, una grande comunità vi accoglie, lo Stato vi accoglie, una legge vi riconosce. Il vostro dolore si trasformi in forza per ottenere l'uguaglianza. Sicuramente ha fatto bene l'Howers Festival ad affermare il concetto di diversità e anche il concetto di differenza. Io da umile legislatore mi rifaccio all'articolo 3 della Costituzione, che parla di uguaglianza al di là appunto di tutte le diversità. E se noi consideriamo le diversità un valore, i valori vanno spiegati, vanno conosciuti, vanno anche veicolati alla maggior parte delle persone e passano attraverso la cultura e l'educazione. Quindi già se i nostri ragazzi nelle scuole imparassero semplicemente questo concetto, che ogni diversità è un valore e per questo va in qualche modo accolta, avremmo fatto un grande passo, ma non solo contro l'omofobia e il bullismo, ma soprattutto contro ogni discriminazione, perché sappiamo quante facce brutte e violente può avere la discriminazione. Sicuramente la sindaca Appendino si è differenziata dal grande corpaccione del Movimento 5 Stelle. Io ricordo con perfetto dolore, perfetta nitidezza, quello che accadde il 16 febbraio nel Senato della Repubblica di due anni fa, quando il Movimento 5 Stelle affossò con una dichiarazione orrenda un lavoro durato due anni, lo ricordo al Senatore Airola che è eletto in questa città e che tradì il mio patto siglato con un messaggio della notte prima. Credo che la sindaca Appendino abbia avuto coraggio. La battaglia per il riconoscimento dei bambini arcobaleno con due genitori alla nascita va ormai oltre anche l'adozione coparentale del figlio del partner. Io credo che la parte sana e buona della politica, nella quale ci possono stare tutti coloro che si battono per i diritti, possa in qualche modo adire questa via, che è quella che dà ai bambini arcobaleno la pienezza della tutela. Quindi dico, spero che molti sindaci seguano l'esempio della sindaca Appendino, indipendentemente dall'appartenenza politica che hanno, perché riconoscere tutela e diritti ai bambini è sancito anche dall'articolo 31 della nostra Costituzione.